È accusato di aver compiuto delle spaccate servendosi di tombini presi per strada in almeno cinque attività commerciali di Treviso, il 22enne centroafricano sottoposto a fermo dagli investigatori della squadra mobile. Il giovane ora in carcere a Verona sarebbe responsabile dei colpi alla pasticceria Nascimben, al ristorante Cae d'Oro, al bar fuori porta caffè, al negozio Futura Market e da ultimo all'ostaria all'oro. È stato fondamentale il riscontro, l'utilizzo del sistema di videosorveglianza cittadino più di alcune telecamere di privati che hanno consentito, oltre ad altri tipi di riscontri, di arrivare all'identificazione dell'autore del fatto. Colpi messi a segno con le medesime modalità, un tombino recuperato per strada è usato per sfondare porte e vetrate, ricavando un passaggio attraverso il quale intrufolarsi all'interno per poi svuotare il fondo cassa, come mostra il video che lo vede in azione. Utilizzava per muoversi sul centro cittadino biciclette oppure addirittura dei taxi. Un'attività complessa, sottolinea il questore Montaruli. Usava anche occultarsi il volto, la testa, usando anche un cappuccio. Colpo dopo colpo il bottino cresceva e con esso anche i danni provocati. La montata della cifra è di alcune migliaia di euro, quindi andiamo oltre i 2.000 euro, più c'erano grossi danni dovuti all'utilizzo del metodo dello sfondamento, perché ogni vetrina sfondata comportava la necessità di una sostituzione con un danno per ogni vetrina di oltre diverse migliaia di euro. Si è così data risposta all'esasperazione crescente manifestata dagli esercenti del centro e della zona del terraglio. Dei fatti che sono apparentemente di limitato rilievo, poi per la loro serialità in realtà creano grossa preoccupazione nella cittadinanza e soprattutto sugli operatori commerciali che in questo momento vengono duramente colpiti e che non meritavano questo tipo di rischio, quindi di correre questo pericolo. Grazie